La stessa di Sant'Apinale Beppe! Ehi, un momento! Prego! Due caffè! Due caffè! Due caffè! Eccoci qua! Tre marocchini! Tre marocchini! Un uomo alla Nutella! Tre marocchini! Un pietro d'acqua Cazzo e uno naturale Muoviti! Lo cucemo! Capuccio! Molto caffiumato! Capuccio! Carrocchino, caffè e un uomo alla Nutella Ma sto becchando fuoco la macchina è qua Sì, signor! Ah! Ma prego! Ancora tutte le cappucce! Oh! Mamma mia! Che giornata? Pasqua! Questo tutto è da me! Oh! Cominciamo! Beppe! E' l'ora! C'è gente? No! C'è gente! Guarda così! Ehi! C'è la spedicola la vostra figlia! Su! Ed ecco! Ma si fa pecchi dentro del fegno! Poi c'è dentro del fegno! Che stai! Eh! Su dai! Lo sai che è buona cosa? Mi fa passare Gisella! Su! Mi fa passare Gisella! Ma io ho votante che... Mi fa passare Gisella! Gianni, tu vai a guardare la curiosità perchè io qua sto andando al manicò ma Gisella qua dentro che fa? Gisella! Fa! 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 Gisella qui! Fa! Ah! Gisella fa! 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 Gisella! Fa! Eeee.. eh....